Saranno in tanti coloro che dall'Abruzzo si regheranno sabato a Piazza del Popolo a Roma per partecipare alla manifestazione organizzata da Cisle Will per chiedere al governo una politica fiscale più efficace e strategie concrete per l'occupazione. Saremo presenti con oltre 5.000 persone, c'è una grande partecipazione, ci sono 50 pullman più i mezzi privati, partiranno da tutte le principali cittadine della regione dell'Abruzzo, abbiamo trovato grande entusiasmo e grande volontà di esserci, è una manifestazione non contro qualcuno ma soprattutto per il Paese e per rilanciare lo sviluppo e l'occupazione. I temi sono di vitale importanza per il futuro dell'Italia e sono ancora più importanti per gli abruzzesi alle prese con tanti problemi, vedi il post terremoto all'Aquila. Noi chiediamo che finalmente si abbassino le tasse sul lavoro senza aspettare i risultati di una lotta all'evasione fiscale che non si fa mai perché non c'è la volontà politica di andare a stanare gli evasori pur avendo tutti gli strumenti tecnologici per farlo. Quindi noi pensiamo che un fisco che è fondato solo sul lavoro e sull'impresa regolare non è più un fisco sulla ricchezza progressiva e quindi va affrontato di petto. Il secondo punto importante collegato a questo è la riduzione dei costi della politica. Il Paese ha bisogno di intervenire con grandi progetti di riordino e di riforma, troppi sprechi e inefficienze. Sono temi che riguardano anche il nostro Abruzzo che vive anche un problema più delicato rispetto al problema del rapporto tra la politica e il servizio da realizzare nei confronti dei cittadini che ogni volta riaprono capitoli che noi pensavamo largamente superati visto le vicende della sanità abruzzese. La manifestazione romana non vede la partecipazione della CGL. Può essere ricomposta la frattura tra le forze sindacali che sempre più hanno contrasti anche in Abruzzo come nel caso della Sevel? Credo che dipenda molto dalla CGL perché dovrà fare una scelta di mettere al primo posto i temi sindacali e al secondo posto possibilmente non occuparsi dei temi politici. Credo che sia questa la ragione vera del dissidio. Per quanto riguarda questa piattaforma in particolare noi abbiamo già fatto un pezzo del cammino purtroppo senza di loro, la riforma del sistema contrattuale e adesso il pezzo fiscale vuole completare quel disegno.